Buongiorno e benvenuti nello stand di Reda Revolution, dedicata all'altra metà del cielo, Roxanne, una giacca in tecno gabardin, tessuto esclusivo di Reda Revolution, abbinato a un altro materiale, il nostro famoso Merino Ripstop, per costruire un capo estremamente leggero, confortevole, caldo ed elegante. All'interno capo trapuntato su ovata di lana, al fine di mantenere la temperatura corporea perfetta, rinforzi in jersey, pile e micro waffle. Una chiusura anti acqua, con rifinito da tasca termosaldata, con possibilità di inserimento dello skipas nella manica, velcro molto leggero e ampio cappuccio. Roxanne!